bro guarda ti faccio vedere stai guardando la live certo 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 guarda che cosa preso guarda che cosa è arrivato aspetta perché sto mandando una mail di lavoro e allora il che tengo sta aspetta 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 questo guarda a eccolo ligo xlr quanto è forte sì sì ho preso anche il piccolo stream deck è arrivato pure quello poi dai ciò 5 minuti della sisi 5 minuti della mia vita e lo faccio c'è una tipa che si chiama l'its door sta parlando di te in questo momento in live l'its door l'its door ma in live si che dice madonna cosa non ha detto niente penso che abbia già finito però la chat dice quel dario moccia dai e il mariong dario non so se sai se che che mi fa recuperare la chat la chat fino anche prima che io mi sia collegato hai scritto hai scritto delle cose prima avevi detto che stavi scrivendo una mail ma invece volevi volevi darmi fastidio perché ciao hai scritto ciao ti cerca mario sturniolo per una cosa importante ma mi sa che è un fake no sei te bro vedi dario vorrei dirti una cosa mario se commenti in chat ti spiega bella dario c'era frank dario moccia a forza di spacchettare carte pokemon è diventato leggendario boh ci sarò anch'io di che te l'ha detto dario dario ho letto questi messaggi tuoi ma è un fake fra no 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 bro c'hai il verificato è per quello che ti posso assicurare che ma no per sicurare sei stato te a scrivere boh tanto lo sta facendo un c***o ero qua in chat dopo 12 ore di got league le sono tornato a casa e ho stream ma è naturale che c'è se ma lei si vergogna di conoscerti no sei tu che stai forzando un essere no no lei te perché ti vergogna intervistarla le ho detto semplicemente di venire da te perché così non si vergogna sì ma hai saltato il passaggio dove uno dei due voleva farlo e lo so ma lei lo vuole fa se te che ti vergogni me ne parli sempre in privato ma questa list è la prima volta che conosco questa list door in vita mia ma non è vero ti vergogni ma è sempre scritto invitala una bella topa no dario dario insomma cosa vabbè flippo lo sei benissimo che non è vero non dire così dario non conoscevo questa ragazza e poi come ti permetti a chiamarla bella topa no no sei te che mi hai detto nei messaggi ti viene da ridere dario ti viene da ridere ti viene da ridere porca miseria mi fai fare brutta figura con la gente la gente non vede l'ora non è colpa mia senti mi sto facendo la got league che mi intervistano le ragazze e la gente dice ho visto che l'hai toccata secondo me è pure colpa tua no allora guarda così spaventi la povera list door che voleva solo farsi intervistare da una sola non devo non sto facendo spaventare nessuno sono una vittima di questo scherzo io vabbè io sono stanco di questa cosa di fammi trattare da te c'è scritto vuoi intervistare mario ti cerca per una cosa importante adesso dici hai detto la stessa cosa a me che ti cerca l'onore che cosa che 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 cosa che cosa ci guadagni a mettere a disagio e mi hai detto dario parlaci te fai finta che sia te perché mi garba la fica eccetera eccetera ok ho capito ho capito devi per forza specificare che mi garba la fica la topa o quello che o quello che vuoi se tu mi fai se tu invii e fai vedere questi messaggi nella mia autorizzazione pubblica fai vedere questi messaggi se sono veri adesso come mi rispondi e non sono in live come faccio a farvi no 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 mandameli mandameli su tele che non fai lo screen mandalo si è che cosa che sei di spostare una piramide ti ho chiesto di mandarmi uno screen vabbè da l'izzdor comunque sei ufficialmente invitata viene un attimo sul discord del mariongs perché l'izzdor l'izzdor sta ascoltando si dal cellulare da un po il cellulare da un po ormai ciao ciao l'izzdor se stai ascoltando fai fai ovviamente come ti pare ovviamente non è un disturbo e dario vuole fare talent scout a quanto parlo non è una forma come la chiamiamo questa cosa invece inter intervista intervista ma la storia in linea con ma in linea con mario è una versione dove tu sei un pochino più defilato è la stessa identica cosa gli hai dato un nome diverso tremenda vecchia volpe mario ragazzi mi dipingono così giusto per citare qualcosa di veramente bello e cinematografico che ha conto la citazione io l'ho quella il jingle di linea con mario cose di segreti da rivelare a noi tutti chiama il nasone lui ti racconta come far in linea con mario e voi ridete ma anche se avesse fatto una canzone peggiore del mondo ormai sti jingle sono assolutamente legittimati quindi qualsiasi canzone canti avrà sempre bene dopo quella merdata della canzone di sciva io sono sciva o come si chiamava io non mi sorprendo più di niente va bene la listor chiamali mandaci le listor se vuoi se vuoi fare in linea con mario fai punto esclamativo non ridere fai punto esclamativo discord oppure fatelo voi ragazzi a lui è ciao bro sei completamente andato di testa è andata è andata bene la serata immagino non bestemmiare un salutone ci vediamo non ti ho chiesto che stai bene questo mi fa preoccupare che mi dici che stai stai no no vabbè dai vattene ma le emozioni che ho provato a vedere il film che ho visto avevo capito che film ha visto in uo a in uo è una bomba è di you asa fra è quello di davy man cry baby fra lo so che l'ho già visto fra si dario l'ha visto si va bene vedere l'uccello daniele fammi vedere il capo ora il piede addormentato il piede addormentato vattene 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 il piede addormentato mi è uscita male scusate a a a a a a a a godo a a a il donore fastidio del piede addormentato guarda se ti ha mandato un messaggio a a a a ok ho aggiunto tutti e due Dario 2 risposto perfetto buonasera ciao ciao litz allora ti dico che comunque Dario l'avevo sgamato al fly eh l'ho detto ma non è vero lì che sta facendo la live perché devo romperli i coglioni no no guarda litz forse non hai capito ma è Dario che ti sta rompendo i coglioni no infatti gli ho detto lui mi fa vai in chat e scrivi e scrivi a Mario gli ho detto ma è lì che sta facendo la live perché devo andargli a romper i coglioni no tranquilla litz questa live è una live che non doveva esistere perché ho fatto una cosa oggi e ho attaccato all'una e mezza alle due Dario chi hai provato a chiamare eh chi hai provato a chiamare ho visto la foto profilo di un uomo pelato con gli occhiali da sole chi stavi tentando di aggiungere in questa chiamata no 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 nessuno 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 ah mi sa che c'è stato un bug col moderatore ok tranquilla comunque litz è assolutamente una live stemporanea quindi non mi hai disturbato anzi scusa se ti ha disturbato Dario no ma va eravamo lì nel cilipio assoluto proprio tranquillissimi moderator cosa vuol dire cosa riguarda allora litz d'or dica quando hai visto per la prima volta Mario cos'hai pensato l'ho visto a dire il vero mi è uscita mi escono alcune storie ma non guardo molto litz non so se ti ha già spiegato il format Mario no che è che viene tutto perché dici la parola format non è da te che cosa stiamo facendo non ho capito allora praticamente il format in linea con Mario è strutturato così un utente viene aggiunto a caso nella linea non è vero è la prima volta che sento questa cosa e praticamente l'utente un po' sprovveduto ma anche molto curioso di essere in linea con Mario usa Mario come una sorta di confessore una sorta di gran maestro che può risolvere i suoi dubbi che cosa chiederesti a Mario quali sono i dubbi che ti attanagliano Mario prova a consigliarti io faccio da tramite col maestro litz non sono un maestro quindi assolutamente se non vuoi dire alcun segreto stai tranquilla non ho alcun consiglio da darti ho capito sento sento puzza di merda Dario è il contrario di quello che facciamo di solito adesso mi succhi il c***o Dario qualsiasi cosa io dica qual è il dubbio litz d'or che vorresti chiedere al gran maestro eh Mario gran maestro ti devo fare una domanda no litz no non esiste come riesci a finire in queste situazioni spiega amico come fai a finire in queste situazioni in queste situazioni qua non mi ci ficco io cioè le soffro le soffro non ne esco bene le soffro mi tocca subirle capisco hai detto ci sta e hai detto dai comunque litz d'or il maestro intende dire che ovviamente lui le subisce perché lui deve portare il peso del mondo sulle spalle quindi è normale che lui debba sobbaccarsi i problemi me ne frega un c***o del mondo Dario se hai altri dubbi Mario ti risponderà no no io non ho dubbi io li devo chiedere no sono tranquillissima non voglio neanche non volevo manco rompere gli c***i poverini no 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 litz veramente stai tranquilla allora facciamo così visto che ho capito la situazione questa è la prima e l'ultima volta che lo faccio litz mi dica allora cerca di dirmi una confidenza un consiglio e io faccio finta di risponderti vai oddio io che c***o ne so ragazzi hai visto Dario nel senso non vuole dire i c***i suoi no litz dopo il format è questo cioè che palle il format è stato appena inventato l'hai portata qua contro la sua volontà è giusto che non sappia che c***o dire che è bellissimo approccio non hai visto che questa situazione non esiste litz d'Orter te le faresti mai due strisce di mamma con Marione? no ma non le farei in generale ma vedi che cosa Dario non è con chi cioè non le farei in generale ci sta ci sta la grande litz brava bravo ciao ciao chi è? è un grande è un grande è un grande mi ha ricordato una tua gag questa ti diverti Dario? in che senso scusami? povero Mario drogato da solo domani arriveranno in a che ora è in linea con Mario? non è niente di questa roba bellissimo approccio Mario incredibile dialettica allora litz qualsiasi problema tu abbia della tua vita sappi che è irrisolvibile non avrai alcuna speranza amica mi fai venire voglia di aprire la finestra e buttarmi no 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 litz era un modo era un modo per esagerare così così la chat non diceva non mi diceva bravo capito? è arrivato il cadetto è arrivato il cadetto ma come ma è è arrivato è arrivato l'apprendista del maestro che ti può indirizzare sulla giustaria di che si parla? bella domanda free wifi ciao marion come la va? bro non sei l'apprendista del maestro non abbiamo mai trattato questi argomenti ciao fri benvenuto in linea con Mario in linea con Mario ok eh capito appena capito posso fare delle domande a Mario? sì sì il format è proprio questo fare domande a Mario ok qualcun'altro ha già fatto domande o devo fare la prima? litz torna ha fatto una però un po' deludente no dai tranquilla litz vai vai insegno io prendo appunti carta è piena e prendo appunti vai 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 da me? non è nessun momento sacrale da capire come comportarsi è una è una vabbè dimmi free no no vabbè non so se posso fare questa domanda vai pure buttala dentro anche se è un po' greve vai vai c'è un po' un complesso di edipo in questa domanda Mario mi dici tutto preferiresti beccare tua madre che si masturba su una tua foto o tua madre ti becca mentre tu ti masturbi su una sua foto scusami free wifi ti è stato esplicitamente chiesto di confidarmi un tuo segreto così io ti do un consiglio e tu mi dici preferiresti trovare tua madre che si masturba su una tua foto oppure cioè questo momento è un momento dove la gente non capisce cosa fare io mi arrabbio perché non capisce cosa fare e poi mi chiami maestro mi chiama maestro Dario che si annoia di andare a letto a quest'ora maestro scusa se la interrompiamo ma se mi chiami figlio di put***a ogni momento della giornata maestro secondo me questo dilemma che rispone il cadetto e l'apprendista free wifi secondo me puoi rivelarle anche delle cose su se stesso capito comunque si va bene allora rispondiamo a sta cosa è complesso di Edipo Mario se hai fatto teatro lo dovresti sapere si Edipo re l'ho letto e poi l'ho letto vabbè cosa? no dico si l'ho letto anch'io l'hai letto anche tu ok quindi la prima opzione era preferiresti trovare tua madre che si sta masturbando sulla tua foto oppure? no tua madre apre la porta proprio la spalanca e ti dice Mario Adagliadella è pronta sono siciliano non sono napoletano testa di e te sei lì che ti stai masturbando sulla sua foto non da giovane attuale oppure il contrario cioè te spalanchi la porta e c'è tua madre nel letto che si sta masturbando sui tuoi ricci guarda preferisco preferisco trovare mia madre che lo sta facendo perché perché avrei modo di saperla aiutare mentre attenzione che è entrato un altro apprendista ciao Dark Andros ciao Dark cosa? buonasera ma mi avete chiamato a quest'ora è tipo un incubo una cosa del genere dovevo andare a riposare ciao ciao Dark Andros buonasera buonasera scusate io se parlo così a bassa voce ma sveglio tutti no non è il volume il problema ciao benvenuto allora Dark Andros ti lasciamo ma questa non era una propic di Sari Carry questa qua aspetta Dark Andros ora vai subito a letto però ti chiedo scusa se ti ho chiamato no ma figurati c'è solamente un dubbio a te hai una domanda da fare al maestro Mario un dubbio esistenziale che ti attanaglia lui te lo risolve prego durante la notte così senza preavviso esatto no no esatto non per forza se non vuoi te ne puoi andare qualsiasi cosa sì certo e ti dà ok vediamo lui ha la soluzione non si sa a tutto mi avete preso alla sprovvista ma arriverò con una domanda nel profondo della notte tra l'altro nel profondo della notte secondo te una sera t'ha andata a putt così va bene Mario non fa così dai ascoltiamo secondo te è meglio una persona no ma veramente anche tu mi stai facendo dai aspetta aspetta cosa ho fatto fanno cucinare fanno cucinare dal volo cazzo mi so il ragazzo le 4 del mattino vai ma vai avanti te maestro stanotte basta parlare di notte e dell'orario tardivo dimmi secondo te è meglio una persona che dice quello che pensa oppure che fa quello che dice maestro ma questa è una domanda allucinante come risponderebbe è meglio è meglio una persona che dice quello che pensa o che fa quello che dice si ragazzi ma state scherzando maestro non si adiri maestro ci risponda secondo me secondo me è meglio una persona che fa quello che quello che dice perché i nostri pensieri possono essere controtendenti e ipocriti tra di loro ma l'esecuzione crea una scrematura tra tutto quello che si può pensare e quello che realmente si pensa cioè quello che si fa cringe però allo stesso tempo è profondissimo quello che ci vuole raccontare il maestro secondo me quindi mi offendi e mi fai il complimento no è cringe inizialmente poi riflettendo la ragione di lei maestro è incredibile quello che ci ha detto secondo me di cosa ne pensi di hit store di questa roba qua per capire io ho una domanda maestro c'è una domanda per lei prego non si sa se è per me ma un po' per tutti per chi vuole rispondere godo siamo normali ad essere qui alle 4 di mattina no non ci posso credere che manco Gigi Marzucullo ma no o siete o siete bravissimi oppure non vi state rendendo conto hai realmente parlato anche tu delle 4 di mattina maestro non si adiri gli orari sono questi allora bisogna parlare sempre di questa di questa c***o di notte non sono un cagone però è l'izzo che tra l'altro era in live esattamente allo stesso stessa sì sì bravo Dario hai provato a chiamare Giorgio Power ho visto no ma ormai tutti si affollano per cercare il maestro no no l'hai chiamato e non ha risposto come non ha risposto nessuno si è reso conto che era un orgasmo quello comunque dai a parte gli scherzi dai a parte gli scherzi stai zitto perché vuoi soltanto dire c***o giusto ma cosa dici Mario chiamami maestro free ah adesso te lo ti posso chiamare maestro però fino a prima stavo scherzando non voglio assolutamente che mi chiami maestro e poi però eviti le domande scomode io rispondo veramente a qualsiasi tipo di domanda però perdo la pazienza se non c'è niente da rispondere buonasera a tutti chi è sono mister president buonasera allora benvenuto in linea con Mario un nuovo format praticamente lei può chiedere qualsiasi cosa al al maestro Mario e le risponderà se ha un problema che l'attanaia lei potrà 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 risolverlo ho capito che si chiama mister president buonasera a tutti i popoli sì 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 buonasera buonasera sarebbe la domanda oh sì sì la domanda tra l'altro alla mia posso dire che non hai risposto ok nessuno parla e poi parlano tutti insieme ok sei mister president la domanda mister president la domanda la domanda chiedimi qualcosa chiedimi qualcosa smettetela di salutarlo se l'avete già salutato ragazzi vai con la domanda buonasera a tutti vai con la c***o maledetta domanda e non farmi alzare la voce pronto sì ti sento ti sento dimmi il tuo dubbio dimmi il tuo dubbio buonasera sono mister president sì 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 mi senti buonasera eh forse forse non si sente mi senti mi senti mi senti pronto sono mister president c'è qualche problema no no nessun problema mister president semplicemente siamo qua in linea con Mario e se lei ha un problema potrà risolverlo tranquillamente perché il gran maestro le risponderò ad ogni dubbio c'è un dubbio che l'attanaglia mister president buonasera a tutti sono mister president no 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 ragazzi è tardi o ci diamo o ci diamo una mossa e una regolata oppure io non ho tempo da perdere da queste parti e non perché voglio fare questa cosa perché sono non la voglio nemmeno fare cioè organizziamoci cosa fare perché sei da 30 minuti che sta accadendo il nulla qua qual è il dubbio che l'attanaglia mister president buonasera allora il dubbio che mi attanaglia è adesso durante la nostra vita siamo veramente noi figlio di p***a che non sei altro questa fa pensare pronto? cosa? questa fa maestro vorrei risposta al mio dubbio sono mister president sì sì allora mister president quello quello che siamo siamo veramente noi è la domanda sì ok la risposta è sì quello quello che siamo siamo veramente noi maestro ma è commovente maestro ma chi è la risposta mia? sì sì assurdo ho detto ho detto la prima cosa che ho pensato volevo sbrigarmi con la domanda non ho dato una risposta profonda ha sentito mister president? pronto mi sente sono mister president sì ma mannaggia alla colonna mi senti mi senti mi senti ho sentito l'imitazione siciliana mi senti il maestro è il goat ma che c***o ridi ma che c***o ridi ma ti vedo sei tu che mi hai detto mi ti taglio la c***a bro ti sto guardando bro ti stai nascondendo la faccia va bene buonasera sì sì buonasera mi sente buonasera sono mister president sì mister president hai sentito la risposta sull'aumento del format assurdo hai sentito la mia risposta comunque grazie a tutti per aver partecipato a questa prima puntata ah finito no no ragazzi va bene tutto ma questa è una merdata questa è la cosa più brutta che abbia mai fatto superabile la live di lupus questa grazie a dark andros grazie a litz ah salutiamo dark andros ma tu ci sei ancora in chiamata sì sì sono ancora qua grazie a tutti ragazzi ma c'è anche dark andros il grande giocatore ah ok allora ti funziona quella c***a di cassa mister president buonasera vabbè direi di chiudere ciao a tutti ciao ciao buonanotte buonasera grazie ragazzi è successo il nulla qua grazie maestro io sono il maestro ragazzi sono io il maestro pronto come da bella complimenti mario questo nuovo formatino notturno è figo è stato una merda nessuno ha capito quello che doveva fare tranne mister president ma non ci sentiva comunque bravo bravo bellissimo l'unico che ha capito cosa fare di questa faccenda ripeteva sempre la stessa frase bro ma free secondo me ha fatto una vera domanda quello che siamo siamo veramente noi è la domanda buona che ha fatto no no free free ah free quella della masturbazione sulla madre la classica domanda che si fa in chat ragazzi il lida con mario è alle 3 di notte ogni mercoledì no 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 bro ogni giovedì non puoi inserirmi il programma in questa maniera soprattutto se è un programma di merda potresti anche non abbonarti in questo momento è il punto più basso della mia carriera grazie per il prime alle 3 ogni giovedì ragazzi appena scattano le 3 cazzo iniziate a spammare tanto se lo scordano tanto se lo scordano non si fa in linea con mario non è una non è un vero format ora ora ho capito ho capito non vedo l'ora di vedere di 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 vedere la recensione è un genio è una metafora che intende dire che non si fa nulla e si chiama format giusto non lo so non lo sai te lo dico io ti do un consiglio da 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 mister president dovresti andare a dormire e non crearmi problemi mentre lavoro io io sto a posto mario sandro allora che cosa facciamo adesso che cosa hai detto cosa facciamo adesso no no che cosa hai detto prima di cocomero non ho detto cocomero ciao tonio grazie mille per il nono mese e non vedo l'ora di vedere la prossima puntata di in linea con mario l'hai scritto male faccia di merda le sue risposte sono state accattivanti e piene di saggezza quindi vi fermate dopo una settimana di insulti a farmi complimenti sul nulla bello eh troviamo sempre il modo di divertirci da queste parti non perdiamo mai il nostro tempo per fortuna era mutato maestro se la sente di star vivendo il god's plan cosa buonanotte cosa pronto Dario piango dalle risate ai dieci minuti secondo me non sono risate vorrei giusto capire a che punto sono di là grazie a tutti